ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il veterinario questa sera a qualla zampa parliamo di anatre chi ha la possibilità di avere un piccolo recinto con una zona umida o ancora meglio una pozza o un piccolo laghetto sicuramente troverà vantaggioso l'allevamento di questo semplice animale che è l'anatra ne esistono diverse varietà dall'anatra muta così chiamata perché non fa un particolare verso l'anatra cosiddetta nostrana che è l'anatra diffusa comunque in passato nelle nostre cascine oppure anche il germano reale che fa sempre parte della famiglia delle anatre questo tipo di animale è piuttosto rustico quindi si ammala difficilmente mangia parecchi avanzi della cucina e comunque si adatta benissimo anche a pascolare dell'erba e necessitano di un po di integrazioni di cereali per crescere ed eventualmente deporre le uova quindi potete allevare le anatre per la carne quindi acquistare dei soggetti in un periodo primaverile e portarli all'ingrasso per poi utilizzare la carne nell'autunno e durante l'inverno oppure utilizzarla anche come produttore di uova infatti l'anatra soprattutto ad esempio l'anatra muta fa delle ottime uova di buona dimensione uova che sono più robuste quindi si spaccano meno facilmente all'interno del pollaio all'interno del recinto e sono ottime appunto per far la pasta o per cucinare in relazione a quello che mangia un'anatra rispetto a una gallina è sicuramente più redditizia questo perché l'anatra ha meno esigenze appunto dal punto di vista alimentare rispetto a una gallina ha meno difficoltà nel pascolamento e si ammala di meno quindi se volete appunto avere una fornitura di uova costante sicuramente l'anatra è più vantaggiosa rispetto a una gallina bene per questa sera è tutto ci vediamo settimana prossimo con un nuovo appuntamento di qua la zampa